Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio portare per la prima volta sul canale un nuovo contenuto, contenuto ovviamente che mi interessava portare da diverso tempo, sia a me che a mia moglie, e volevo iniziare a portare, anche quando ovviamente capita, non ora come argomento costante e troppo spesso, i puzzle, perché siamo sempre stati fan dei puzzle, soprattutto a mia moglie, ma anche io, perché ci piace, ci piacciono. Io ho sempre detto, se devo mettere un quadretto in una stanza, per quanto magari è una bella stampa digitale, colorata, da tutto quello che vi pare a voi, ma è molto più bello vedere un puzzle, perché poi c'è anche una storia dietro, te lo sei montato, te lo sei costruito, c'hai perso del tempo, e ovviamente l'hai poi dopo incorniciata, attaccata alla parete. E in questo caso vi voglio mostrare il primo puzzle che porto sul canale, ovviamente nello stile gotico che piace a noi, Macabre Mansion, un puzzle di mille pezzi a tema Edgar Allan Poe, con tutte quante le sue opere più belle, ad esempio Il Pendolo, Il Corvo, e tutte quelle più famose che poi ritrovate. Disegnato completamente a mano da Holly Carden, che è l'autrice che io ringrazio di cuore per averci offerto una copia per la recensione, grazie Holly, grazie di cuore, perché questa ragazza, Holly Carden, ha un suo sito, hollycarden.com, che ovviamente vi lascio. Primo link è in descrizione se volete acquistarlo, ma anche vedere le altre sue opere, perché lei non fa soltanto puzzle, ma ha collaborato in un board game, un progetto che vi faremo vedere a breve, e ci è arrivato tra l'altro un paio di giorni dopo questo qui, e tutti quanti i disegni, quindi tutti quanti i tile di gioco, le carte, tutta la grafica, mettiamola così, di questo board game l'ha fatto Holly Carden, ed è bravissima a disegnare, potanto ve lo faremo vedere. E ci ha mandato questo Macabre Mansion, ve l'ho detto che questo è tutto quanto ispirato, fate conto, un castello intero divisa a stanze, dove ogni stanza dovrete stare attenti e osservare, perché è una delle molte opere del grandissimo Po. Se andate sul suo sito, c'è tutta la storia che c'è dietro, che uno dice a volte un puzzle, un'immagine divisa in tanti cubettini, che poi dopo vanno incastrati per fare una figura unica. Se andate sul suo sito, vedete le prime bozze che ha fatte, vari step, i primi disegni, come l'ha cambiati, come l'ha modificati, le prime colorazioni, poi le colorazioni digitali, e come è arrivata il prodotto finale, vi fa vedere tutta quanta la storia del progetto, ed è bello, a me piacciono i puzzle, ma non quello, passatemi i termini, è stupido magari il puzzle che si vede la torre di Pisa, la tour Eiffel, oppure la statua della libertà, che uno se lo monta, se lo guarda, magari è bello, per l'amor di Dio, però se lo guarda e finisce lì. Io mi scelgo a perdere in un puzzle, perché il puzzle non è solo costruirlo, ma anche osservarlo. Io, in un'opera del genere, dove è la stessa, ho le card e ti dice, attenzione, facci caso a tutte le piccole cose, perché magari in una stanza, sul tavolino, in una libreria, c'è un oggetto che è un easter egg nascosto di un'altra opera di Poe, no? E te magari io ci passo le ore, o se è fatto veramente bene, ma tira lo sguardo, io ci passo le ore ad osservarlo un po' come se fosse una casa delle bambole. Ci sono in tutto 20 opere, o per meglio dire, storie brevi, di Poe, in questo puzzle, che ovviamente è stato, ha richiesto del tempo per essere fatto, ed è partito da una campagna Kickstarter, quindi anche per trovare i fondi, per farle tutte, è partito da una campagna Kickstarter. Il prodotto viene dall'America, quindi se lo dovete ordinare, arriverà dall'America, e oltre alle spedizioni postali, ci dovete mettere anche una piccola percentuale delle spese doganali, a noi quando è arrivato, insomma, l'abbiamo, l'abbiamo pagate, però va sicuro, è molto bellino, e ora vi faccio vedere un piccolo unboxing, ma che c'è da un unbox a niente praticamente, unboxing, vedete questo castello, con queste 20 stanze, divise in vari piani, tra l'altro è una classica casa, un pochino gotica, bellina, veramente mi guarda, bandà a morire, se l'avessi e darvi un posto del genere, ci morirei dentro, non vedrei nemmeno più la luce del sole, e poi vedete che sotto c'è la cantina e tutto quanto, e le varie stanze, sono le varie opere di Poe, i racconti brevi di Poe, quindi anche bello, mentre uno le costruisce, andarle anche ad osservare, e aprire, vedete, comunque puzzle di mille pezzi, di Holly Carden, e aprendolo, all'interno ovviamente c'è da unbox a poco, perché ci sono tutti quanti, i pezzi, separati, che sono mille eh ragazzi, quindi comunque sono, di dimensione dovrebbe venire, 60 cm per 40, una cosa del genere, quindi è anche bello grande, insomma, è anche un bel quadrettino, e poi qua sotto, poi qui c'è un fogliettino, con la leggenda, che vi fa vedere tutti i posti, e dietro, non ve lo faccio vedere, c'è scritto che tipo di posto è, è una specie di spoiler, insomma, se qualcuno non riesce a capire, quale tipo di opera di Po, sia collegata a quella particolare stanza, insomma, in conclusione, se devo dare un voto a un'opera, ovviamente non è un gioco da tavolo, che ha delle regole, non è un libro game, che anche lì ha delle regole, anche una parte narrativa, da seguire, tutto quanto, questo è un puzzle ragazzi, però uno va a vedere, anche la complessità del puzzle, come è fatto il disegno, il tipo di grafica, ve l'ho detto all'inizio, non è il puzzle della torre di Pisa, che per quanto sia bella, una foto fatta dalla Madonna, o in 3D, lo dovete andare a montare, questo è un lavoro della Madonna, perché poi dovete andare a vedere il dettaglio, dovete andare a vedere l'accortezza, e l'accuratezza, non soltanto del racconto di Po, che va a citare in quella data stanza, ma anche il tipo di colore, il tipo di disegno, il tipo anche di attenzione, magari di mettere le posate sul tavolino, il libro nella libreria, magari quel libro particolare, che ti richiama, magari un paragrafo, una cosa particolare, un po' una specie, come se fosse un segreto, un easter egg, appunto, dei racconti di Po. Quindi l'attenzione è stata maniacale, il lavoro ha richiesto tanto tempo, perché gli ha portato via veramente, io penso, almeno un anno di lavoro, e se andate sul sito, tanto vedete tutti quanti gli step, ed è un lavoro molto bello, ed è un progetto che è stato finanziato anche bene, su Kickstarter, perché poi, sembra una cavolata, ma non sono pochi, gli amanti dei puzzle, infatti anche a me sono sempre piaciuti, e soprattutto a mia moglie, che ha avuto anche la pazienza di montarle tutto, quindi, se devo dargli un voto, le do assolutamente come puzzle, quindi guardando l'opera in sé per sé, nella sua complessità, però complessità nel senso che è completo, di tutto quello che ci dovrebbe essere, in un'ambitazione gotica del genere, e richiamando le opere di Po, le do assolutamente un 10 su 10, meritatissimo, ringrazio Holly Cardin, per averci offerto questa copia per la recensione, spero che ovviamente in futuro, si possa collaborare anche per qualcos'altro, a parte che per il board game, dove anche lei ha lavorato, che vi faremo vedere a breve, prototipo, versione demo prototipo, e se volete ordinare questo, Macapre Mansion, o tutti gli altri, che ha sul sito, andate direttamente a vedere il primo link in descrizione, che è il sito di Holly Cardin, ricordatevi che questa roba viene dall'America, quindi comunque alla spesa, che costa un po', comunque alla spesa che fate per andarla ad acquistare, c'è anche da metterci una tassa doganale, fatemi sapere cosa ne pensate, con un commento, e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao alla prossima!